Ciao sono Arisa e questo è il mio libro. Una donna attende l'uomo che ama in una casa isolata in montagna e prepara per lui la cena di Natale. Il tempo passa, lei mette a punto ogni particolare, si fa bella, ricorda e il tempo intanto continua a passare. Tu eri tutto per me è una storia d'amore poetica e straziante, disperata e romantica. Il libro è sorprendente di un artista che si conferma capace di toccare con apparente leggerezza le corde più profonde dei nostri sentimenti. Sono io.